Musica Bentornato Goodyear, bentornata Andiamo a vedere una nuova sezione del pannello di controllo chiamata Autoplay Ma innanzitutto i complimenti per il traguardo che hai raggiunto In quanto stai visionando appunto la centesima lezione Ma bando alle ciance andiamo a vedere questa sezione Che cos'è l'Autoplay? Chiamato anche Autoavvio Autoavvio di cosa? Allora l'Autoplay che nella fattispecie è questo pulsante Una volta che hai avuto accesso al pannello di controllo È una funzione che realizza degli automatismi Nel momento in cui si inserisce o si collega un determinato supporto dispositivo al computer Ha mai notato che inserendo un supporto ottico nel rispettivo lettore Oppure collegando una penetta USB o qualsiasi altra periferica ad una presa USB Dopo qualche secondo o appare una finestra monitor Oppure si avvia direttamente il contenuto multimediale Appunto questo è il risultato della funzione Autoplay attivata impostata In pratica avrai da un certo punto di vista una miglioria nell'utilizzo del sistema operativo In quanto si riducono i tempi di avvio dei contenuti multimediali E non dovrai esplorare il dispositivo o il supporto per visionare i contenuti Ed eventualmente scegli il programma per il suo avvio Ma dall'altro ci saranno anche degli svantaggi Ma vediamoli Naturalmente il principale vantaggio è la rapidità di risposta Perché non dovrai mettere mani all'interno del supporto o del sistema operativo Questo è tanto un maggior vantaggio quanto minore sono le cognizioni, le conoscenze di un utente Di contro però non potrai selezionare alcun programma per scegliere quale utilizzare Per poter visionare il contenuto multimediale Ammesso che tu ne abbia installato più di uno di questi programmi Potrai sicuramente eseguire questa opzione Ma una volta partito il contenuto multimediale Dovrai interrompere il processo E poi andare ad esplorare il contenuto E seguire la funzione tramite il tasto destro Apricon Oppure in maniera un pochino più complessa Andar ad impostare uno o l'altro programma predefinito Per specifici contenuti Altra cosa che sottolineerei ben più importante In realtà è la sicurezza Questo perché alcune tipologie di malware Si insinuano in determinati settori dei supporti E sfruttano proprio l'autoplay Per contaminare il sistema operativo Non so se avrai avuto modo di sentir parlare La contaminazione dell'autoavvio L'auto run Della periferica Del supporto Personalmente io disattivo tale opzione Quindi l'autoplay Per poter controllare in maniera migliore La situazione Come selezioni questa opzione? Beh naturalmente Cliccando sul pulsante autoplay Dal pannello di controllo Si presenterà una schermata Tipo questa Nella quale potrai Innanzitutto Selezionando o togliendo Questo segno di spunta Attivare o disattivare l'autoplay Per tutti i supporti e i dispositivi E tra l'altro Potrai decidere Di impostare Per ogni specifica categoria O formato Una opzione Dettata da un menu a tendina Che si presenta Per ogni specifico formato Quindi La prima cosa da fare E decidere Se impostare o meno La funzione autoplay Per tutti i supporti e dispositivi Cosa accade Se lo disattivi? Naturalmente Dovrai Avviare Esplora Risorse Andare a Visionare il contenuto E scegliere poi Di volta in volta Quale contenuto avviare E con quale programma Avviarlo Se invece è spuntata L'opzione Inserendo Un qualsiasi supporto Ad esempio un cd Che contiene Il materiale multimediale A meno di eventi Imprevisti Si avvierà Automaticamente La riproduzione Potrai Naturalmente Interagire Nella selezione Impostando Come detto Per ogni tipologia Di supporto E contenuto Uno specifico Evento Dal menu a tendina Dall'immagine Che hai visto in precedenza La lista degli eventi Selezionabili Naturalmente dipende Anche dai programmi Che sono installati Nel sistema operativo In linea di massima Però Troverai Grossonalmente Queste selezioni Potrai Riprodurre il contenuto Utilizzando L'uno O l'altro Programma Quindi Potrai avere Diversi programmi Una lista di diversi programmi Se ne hai installati Più di uno E scegliere Per quel determinato Supporto Quale programma Utilizzare Ad esempio Per il contenuto Dei cd audio Potrai utilizzare Windows Media Player Oppure per i contenuti Di un dvd Potresti decidere Qualche altro programma Tipo vlc Potrai decidere Di far aprire Una cartella E visualizzare I file contenuti Utilizzando Explora Risorse Oppure Potrai decidere Di non eseguire Alcuna operazione Affinché tu Possa Eseguirla Manualmente Oppure Potrai decidere Di chiedere Conferma Ogni volta Al presentarsi Di quel determinato Formato O ancora Installare O eseguire Il programma Presente All'interno Del supporto Importare Eventuali immagini O video Utilizzando Il sistema Operativo Ed infine Anche Masterizzare Sul disco Utilizzando Uno O l'altro Programma Se ne dovessi Avere installato Più di uno In base alle tue Necessità Al tuo piacere Seleziona Ciò che credi Più opportuno A realizzarsi Di quel determinato Evento Terminate Le impostazioni Ricordati Di salvare Per far acquisire Le tue impostazioni Oppure annullare Per rimuovere Ogni opzione Che avrai impostato Nella schermata Vista All'inizio Troverai anche Un pulsante Chiamato Ripristina Valori predefiniti Che ti permetterà Di riportare Tutte le impostazioni Dai vari menu Alla condizione Presente Al momento in cui Hai terminato L'installazione Del sistema operativo Quindi subito dopo Un'eventuale Formattazione E reinstallazione Guttler Andiamo a vedere Come impostare L'autoplay Oppure gestire La sua funzionalità Dal pannello di controllo Clicca su questo pulsante Una volta che hai aperto Il pannello di controllo Da questa schermata Potrai decidere Se Abilitare Come in questo caso Quindi Impostando il segno Di spunta La funzione Autoplay Per tutti i supporti E i dispositivi Una volta Abilitata Potrai Selezionare Cosa Eseguire Per ogni Determinato Supporto In base Ad un determinato Menu Come puoi vedere La lista È abbastanza Variabile Potrai eseguire Il contenuto Per un determinato Supporto Oppure Aprire La cartella Per visualizzare I file Sfruttando Appunto Esplora Risorse Oppure Non eseguire Alcuna operazione Oppure Chiedere Ancora Una conferma Per quel Che riguarda Le immagini Potrai Importare Le immagini Se tu Ad esempio Colleghi Una fotocamera Oppure Far partire Un determinato Programma Audio In relazione Al contenuto Potrai Decidere Se Installare O far partire I giochi Qualora Tu Inserisca Un supporto Che contiene Appunto Dei file Che corrispondono Ad un gioco O all'installazione Di un programma Fatto questo Potrai Cliccare Sul pulsante Salva Per far acquisire Queste impostazioni Oppure Cliccare Sul pulsante Annulla Per rigettare Tutte le impostazioni Qualora Non ricordassi Come Debbano essere Emesse Le impostazioni Non ti preoccupare Sarà sufficiente Cliccare Sul pulsante Ripristina Valori Predefiniti E tutto Tornerà Alla condizione Subito dopo L'installazione Del sistema Operativo Ma vediamo Cosa accade Fisicamente Ora Ho disattivato La funzione Autoplay Avvio Esplora Risorse E vado Ad inserire Una pennetta Nella presa USB Come puoi vedere Dopo qualche secondo Compare la Pendrive E Cliccandoci sopra Potrò Esplorarla Ora La Rimuovo Vado Ad Attivare La funzione Autoplay Salvo Salvo Il suo contenuto Questo Come dicevo Potrebbe essere Particolarmente Pericoloso Qualora Una pendrive Contenga Un virus Che sfrutta L'autoavvio Dei dispositivi Il cosiddetto Autorun Alla Alla prossima Lezione Per continuare Questa Lunga Maratona Sul pannello Di controllo Ora Un forte saluto Ciao a presto Da calo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Vedo Grazie a tutti.